Quando si accende l'amore è una pazzia temporalea, l'amore scoppia come un terremoto e in seguito si placa e quando si è placato bisogna prendere una decisione, bisogna riuscire a capire se le nostre radici sono così inestricabilmente intrecciate che è inconcepibile il solo pensiero di separarle. L'amore invece è quello che resta del fuoco quando l'innamoramento si è consumato. L'amore invece è quello che resta del fuoco quando l'innamoramento si è consumato.